Enrico Miglioranzi, la vittoria nel derby di ieri contro il Brunico sicuramente dà morale anche per questo rush finale della regular season, importante per il Bolzano per cercare di prendersi il primo posto? Sì, è fondamentale fare più punti possibili in tutte le partite, possibilmente fare i tre punti sempre, perché sappiamo che la battaglia per il primo posto sarà serratissima con Innsbruck e Salzburgo, quindi ci dà morale anche in vista della prossima partita di domani con il Ferva. Ecco, domani appunto arriva il Ferva, il Bolzano ha vinto 10 delle ultime 11 partite e l'unica persa è stata proprio contro il Ferva, cosa ti aspetti dalla partita di domani, cosa ci sarà da fare meglio rispetto all'ultimo sconto contro i loro? Sicuramente sarà una partita difficile come sempre contro i loro, perché hanno veramente una buona squadra, tengono un ritmo alto, però penso che se impostiamo la partita sui nostri ritmi e giochiamo come sappiamo possiamo vincerla tranquillamente. E niente, servirà a partire bene fin dall'inizio senza lasciarli niente, soprattutto i primi 10-15 minuti e poi tenere il pallino del gioco fino alla fine. I think it helps, you know, being home, obviously we're a tough team to beat at home for Harbors, you know, they've got a good home crowd and whatnot. You know, I think we just got to stick to our game, you know, we're 40 games into the season, everybody knows what they have to do. I think it's just going to come down to a dogfight and who wants it more.